leggo il versetto 12 del capitolo 10 del libro dei numeri che stasera vedremo il libro dei numeri che dice gli israeliti si mossero secondo il loro ordine di spostamento dal deserto del sinai la nube si fermò nel deserto di paran perché la nube è il segno che dio gli stava accompagnando e quindi la nube si ferma dove si ferma la nube si fermano anche loro si fermarono nel deserto di paran è quella quella località che sta a nord della penisola del sinai avete presente il sinai quel triangolo rovesciato no ecco in cima c'è questo deserto praticamente sono arrivati alla terra promessa praticamente allora capitolo 13 dei numeri stasera leggiamo il capitolo 13 capitolo 14 non tutto è qualche versetto vi leggo giusto per farvi capire perché qui c'è una questione grossa e quindi per farvi capire questa questione il signore parlò a mosè e disse ecco il signore parlò a mosè e disse il signore prende iniziativa e da questa iniziativa dipenderà il risultato e quindi tutto il futuro di questo popolo che è uscito dall'egitto da questa iniziativa che lui prende vediamo qual è questa iniziativa che lui prende versetto 2 manda uomini a esplorare la terra di cana che sto per dare agli israeliti manderete un uomo per ogni tribù dei suoi padri tutti siano principi fra loro allora che dice dio a mosè dice manda uomini a esplorare la terra di cana ma come come ci sembra già una cosa strana come come se come come se il signore lui non conoscesse la terra di cana e non conoscesse quello che c'è nella terra di cana loro non lo sapevano cosa c'era lui però lo sa bene no quindi sa com'è fatta sa quali abitanti ci risiedono sa qual è la loro forza quale la loro debolezza sa come anche come introdurre in essa il suo popolo e per quali vie condurlo perché allora manda uomini per esplorarla la risposta può essere soltanto una cioè li manda in prospettiva della fede futura che lui chiederà al suo popolo il popolo sarà messo alla prova il signore vuole saggiare il suo cuore vuole vedere che cuore ha vuole sapere cioè se in esso vi è fede oppure c'è incredulità ostinazione e ribellione vuole vedere questo insomma è come dire niente a scatola chiusa no è tutto affidato alla libertà l'ingresso nella nuova terra e quello che vi troveranno sarà affidato soltanto alla loro libertà quindi nessun fideismo no ma Dio vuole una fede cosciente e libera ma questo succede anche a noi sempre anche la nostra storia mette alla prova la nostra vita la nostra libertà come stiamo vedendo anche adesso no come abbiamo quello che stiamo vivendo è la storia che ci sta mettendo alla prova versetto 3 Mosè li mandò dal deserto di Paran secondo il comando del signore quegli uomini erano tutti capi degli israeliti ecco mandando i capi Dio non manda qualsiasi non dice a Mosè di mandare qualchiunque manda i capi perché vuol vedere qual è la loro capacità di reale di guidare il suo popolo soprattutto in un futuro prossimo quando Mosè non ci sarà più e quindi dovranno essere loro a guidare il popolo saranno questi uomini capaci di condurre nella verità nella giustizia nell'obbedienza a Dio il popolo del Signore ecco perché manda i capi i responsabili diremmo noi oggi no ecco versetto 23 sempre del capitolo 13 dei numeri giunsero fino alla valle di Escol e la tagliarono un tralcio con un grappolo d'uva che portarono in due con una stanga e presero anche melagrane fichi avete visto quindi che cosa hanno trovato hanno trovato una terra prosperosa addirittura prendono un grappolo d'uva e lo portano su una stanga per vedere quanto era grosso questo grappolo sarà stato enorme gigantesco e poi prendono melagrane fichi quindi è una terra fertile è una terra buona versetto 25 28 al termine di 40 giorni tornarono dall'esplorazione della terra e andarono da Mosè e da Aronne e da tutta la comunità degli israeliti nel deserto di Paran verso Cades riferirono ogni cosa a loro e a tutta la comunità e mostrarono loro i frutti della terra che avevano raccolto raccontarono siamo andati nella terra alla quale ci avevi mandato vi scorrono davvero latte e miele e questi sono i suoi frutti ma il popolo che abita quella terra è potente le città sono fortificate e assai grandi e vi abbiamo anche visto i discendenti di Anak sarebbero i giganti finisteri dalla descrizione del paese che è terra dove scorre latte e miele si passa a parlare degli abitanti o dei popoli che vi abitano chi vi abita è potente le città sono fortificate e grandi vi abitano anche i giganti questa seconda relazione dopo i frutti abbondanti della terra voi potete capire mette in apprezzione tutto il popolo perché si accorgono subito della grande sproporzione che c'è tra le loro forze e quelle che vedono invece in questa terra soprattutto davanti quando si trovano davanti si troveranno davanti a questi uomini possenti eppure tutto questo se voi ci pensate è ingiustificato perché? ma quale altro popolo più potente di quello egiziano? eppure ne sono usciti liberi qual è il problema? è che Israele non ricorda che se ora è libero non lo è da se stesso quella libertà non ce la sono procurata da soli combattendo contro gli egiziani è Dio che li ha resi liberi se guarderà solo se stesso sarà sempre un niente dinanzi agli altri popoli se in Egitto avesse guardato solo se stesso non sarebbe mai stato liberato dall'Egitto questa verità Israele dovrà sempre custodirla nel cuore non se la può scortare che se è libero è per mano di Dio non per mano loro quindi non capisco perché non ci capisce perché sono così apprensivi si cominciano a preoccupare perché vedono questi popoli più potenti di loro versetto 29 e 30 gli Amaliciti abitano la regione del Negeb Gli Ittiti, i Jebusei, gli Amorrei, le montagne i Cananei abitano presso il mare e lungo la riva del Giordano Caleb fece tacere il popolo davanti a Mosè e disse dobbiamo salire a conquistarla perché certo vi riusciremo ecco Caleb è l'unico che usa la fede se non si parte dalla fede nessuna decisione riuscirà e anche le forze saranno sempre deboli e le forze degli avversari saranno sempre più potenti più forti e più invincibili versetto 31 e 32 ma gli uomini che vi erano andati con lui dissero non riusciremo ad andare contro questo popolo perché è più forte di noi e diffusero tra gli israeliti il discredito sulla terra che avevano esplorato dicendo la terra che abbiamo attraversato per esplorarla è una terra che divora i suoi abitanti tutto il popolo che abbiamo visto è gente di alta statura cioè come dire ma dove andiamo se ci troviamo davanti questo popolo così potente che ci schiaccerà c'è un pro c'è un però se voi se voi notate c'è una cosa una questioncina che bisogna mettere in evidenza cioè questi vanno un po al di là della loro missione cioè a loro era stato detto soltanto di andare e di riferire quello che avevano visto e basta ma non di dare i giudizi no erano stati mandati per questo per esplorare il paese e sono chiamati a rispondere solo di quello che avevano visto riferito il risultato delle esplorazioni e loro dovevano stare zitti non possono esprimere un pensiero che va ben oltre il loro mandato perché la valutazione sulle azioni future non aspetta a nessuno perché aspetta solo a Dio è solo lui che vi vuole portare in quella terra e vi ci porterà non dipenderà da voi quindi non sono chiamati loro questi esploratori a stabilire se si riuscirà o non si riuscirà se si vincerà o non si vincerà se si dovrà andare alla conquista o non si dovrà andare non sono loro a decidere questa decisione è solo di Dio e una volta che il Signore ha deciso aspetta a Mosè comunicare la volontà perché venga eseguita a questo punto però possiamo capire bene che fine fa la fede questi uomini vedono solo se stessi non vedono Dio che combatte con loro o meglio si sono scordati di un Dio che combatte con loro e per loro Dio non c'è più Dio è come morto nella mente di questi esploratori e quindi diffondere il discredito sulla terra è anche diffonderlo su Dio loro dicono che la terra che hanno esplorato è una terra che divora i suoi abitanti questo non è vero perché non risulta da quello che hanno riferito precedentemente non sono stati divorati no? un'altra falsità tutto il popolo che abbiamo visto è gente di alta statura certo ma di altra statura erano solo i figli di Anach che erano una piccolissima realtà rispetto a tutta la terra di Cana come il cammino di fede finora non è stato poi così promettente bisogna che Israele lo ammette hai camminato tutti questi anni nel deserto ma per che cosa? ha cominciato con Dio ma finisce senza Dio si può dire no? e qui una cosa importante è che quello a cui Dio guarda il peccato a cui Dio guarda non è mai il trasgredire le sue leggi ma il dimenticarlo ma non il dimenticare Dio dimenticare l'opera io ti ho tratto dall'Egitto scordarsi di un Dio così la dimenticanza il peccato più grave per Israele è la dimenticanza è proprio il fatto di dire di vivere come se Dio non ci fosse guardate che questo ci interpella molto a noi da vicino molto da vicino capitolo 14 vi leggo soltanto il versetto 1 e il versetto 2 perché sono emblematici allora vediamo che succede dopo allora di fronte a questi che fanno che esprimono questi giudizi e anche che dicono queste falsità allora tutta la comunità alzò la voce e diede in alte grida quella notte il popolo pianse vedete che succede? quando si superano quando vedono superarsi i loro limiti la comunità alza la voce comincia a gridare a piangere, non dorme sono sconvolti gli israeliti di fronte a quel racconto e perché anche la coscienza del loro limite ha oscurato Dio nei loro cuori e dove la verità di Dio non brilla più c'è solo spazio per la disperazione sono disperati i poverini no? sempre quando questi limiti sono oltrepassati la confusione regna in molti cuori insieme al disorientamento e anche alla perdita della fede si perde la fede versetto 2 tutti gli israeliti mormorarono contro Mosè e contro Aronne e tutta la comunità disse loro fossimo morti in terra di Gitto o fossimo morti in questo deserto avete visto dove si arriva? che il pianto non è soltanto il fatto di dire oddio come siamo conciati ma proprio è una mormorazione è prendersela con Mosè e con Aronne vuol dire che Dio non c'è più proprio dal loro cuore e dalla loro mente è come se non fosse mai esistito per loro il loro presente è senza la memoria delle grandi opere compiute dal Signore in loro favore per la conquista della loro libertà dalla schiavitù dell'Egitto e quindi responsabili della loro situazione non si sentono loro sono Mosè ed Aronne sono loro e nessun altro sono loro che hanno parlato di Dio sono loro che lo hanno fatto scendere che lo hanno fatto scendere nel lagone quindi prendere e uscire dall'Egitto attraversare il deserto ecco il desiderio manifestato in questo pianto di mormorazione che a frutto della perdita della fede e della memoria e della cancellazione della loro memoria è fossimo morti in terra di Gitto fossimo morti in questo deserto che cos'è questa invocazione della morte? manifestazione, segno, rivelazione di un abbattimento di una profonda prostrazione delusione, scoraggiamento scuramento della luce perdita della fede perdita della verità di Dio non si riconosce più niente in questi momenti di così grave prostrazione spirituale e fisica come possiamo essere anche noi in questi frangenti perché una guerra ci può angosciare e ci può buttare anche noi nella disperazione oppure nel dire al Signore ma dove sei? ma perché permetti tutto questo? ce la facciamo questa domanda no? ecco però di fronte a queste cose quello che ci può far rialzare lo sguardo è quando vediamo che il Signore davvero salva dentro queste situazioni e allora mi venivano in mente in questo momento tutte le testimonianze che ci stanno arrivando anche attraverso Russia cristiana di questa situazione di guerra che davvero è terribile le immagini che vediamo sono agghiaccianti non so se voi sicuramente le vedrete anche sui social su internet perché è davvero uno strazio no? però sentire poi che ci sono dei fatti miracolosi dentro tutto questo questo è illuminante perché questa è la speranza la speranza non è nel fatto chissà che succederà dopo chissà come ne verremo fuori da questa pandemia e da questa guerra come ne verremo fuori la speranza non è lì la speranza è se in questo momento di prostrazione possiamo guardare una luce questa è la speranza e di luci ne stanno arrivando io ve ne voglio leggere una cosa che mi è arrivata che ho proprio preso da Russia cristiana perché mi sembra bellissima no? è la testimonianza di un prete ortodosso che parroco della chiesa ortodossa del patriarcato di Mosca che attualmente è a Madrid in Spagna sentite cosa dice cosa scrive ora vi dirò una cosa molto personale non avrei mai pensato di dirla pubblicamente ho iniziato il mio ministero in Spagna 18 anni fa in quel momento c'erano due culture che costituivano il mio punto di riferimento la Russia dove ho vissuto fino a 17 anni e dove poi ho trascorso vari mesi ogni anno durante le vacanze e l'Inghilterra dove ho studiato otto anni la comunità di Madrid era e resta in gran parte ucraina arrivando qui mi sono calato in un mondo in una cultura completamente diversi alcune cose riuscivo a capirle altre no c'erano cose che mi entusiasmavano altre che mi lasciavano sconcertato e periodicamente mi nasceva la domanda che cosa ci sto a fare qui? o meglio perché proprio io qui? perché Dio l'ha voluto? dentro di me sentivo sapevo la risposta giusta per aprirmi il cuore il senso lo capivo ma non era tangibile proprio in questi sventurati giorni il pazzole si è ricomposto e a me non resta che ringraziare Dio avete capito? proprio in questi sventurati giorni il pazzole si è ricomposto cioè ho visto tangibile la risposta alle mie domande che sto a fare qui e a me non resta che ringraziare Dio